In tantissimi nei commenti mi avete chiesto di provare la pasta al suo con il pomodoro a pezzi che a me non piace Quindi oggi vi svelo il segreto di questa ricetta In una padella mettete una quantità industriale d'olio ed ecco i miei nemici pelati Li buttate e poi aggiungete un po' di sugo a sentimento, mi raccomando, non posso farne a meno Gli date una bella emischiata a sti pelati brutti e poi aggiungete il sale rigorosamente dell'Himalaya, sempre Gli date una bella schiacciata in modo tale che non rimangono i pezzi che io non sopporto Una volta fatto, mettele tutto a Ninna, guarda, bravo, non te muove Calate la pasta a sentimento e quando il sugo è cotto mette un po' di zucchero per togliere l'acidità e un po' di burro Ed eccola qua, devo dire che non mi ispira molto, preferisco la mia di pasta al sugo Ma comunque, parmi, già nemmo se è più questa e se la mangiamo comunque, seguimi